Previsioni Oroscopo Sagittario di aprile 2019 Paolo Fox, stop ai ricordi. Mese interessante per chi vuole vivere occasioni nuove, fortuna negli incontri secondo il grafico Questo mese si rivelerà elettrico, ma non è necessariamente una cosa negativa.La voglia di superare i propri limiti ti spingerà a impegnarti duramente Ma non agire troppo impulsivamente. Alcuni confronti ti aiuteranno ad individuare più facilmente il modo corretto di agire Il giorno 11 giove retrogrado ti consentirà di sfruttare le tue qualità e di guardare al futuro in modo ottimistico Apri la tua mente, avere un atteggiamento più entusiasta ti aiuterà a mettersi in gioco i nuovi contesti più facilmente Secondo l'oroscopo sagittario di aprile 2019 le ultime due settimane saranno particolarmente positive e dinamiche anche grazie all'ottimo aspetto di Mercurio Il pianeta delle idee e della comunicazione renderà le tue interazioni e scambi con gli altri più animati e costruttivi Questo transito ti aiuterà ad individuare più facilmente quali sono le priorità da seguire, ma anche ad esprimere le tue idee e le tue intenzioni più spontaneamente Venere risveglierà la passione, e renderà fortunati anche gli incontri A rendere speciale la tua vita sentimentale questo mese sarà anche Marte, che ti incoraggerà ad agire e ad avvicinarti agli altri Chi ha una storia da tempo, non deve essere troppo diretto, né troppo pretenzioso nei confronti del partner Devi essere tu per primo pronto a dimostrare concretamente il tuo amore Per i singoli il grafico segnala buone occasioni di successo ed incontri fortunati Sarà soprattutto dopo il 20, che avrai maggiori probabilità di incontrare una persona speciale Oroscopo sagittario di aprile 2019 Paolo Fox, vietato a contentarsi, buone opportunità Alcune problematiche legate al lavoro possono rendere la prima parte del mese di aprile piuttosto agitata Ci saranno degli imprevisti e dei contrattempi da dover gestire Chi si sente particolarmente sotto pressione, durante le giornate centrali del mese rischierà di avere qualche reazione anche eccessivamente polemica Questo è un anno interessante che offre grandi opportunità La confusione però potrebbe anche rappresentare una penalizzazione dettata anche dalle eccessive alternative che non sempre saranno all'altezza delle tue aspettative, oppure non saranno facili da gestire come avevi programmato In amore, se non sei appagato dalla tua relazione sentimentale, porteresti anche provare attrazione per un'altra persona Con la primavera si risvegliano i sensi Come pure il desiderio di vivere in maniera più appagante anche il lato più romantico della tua relazione È difficile che tu ora possa accontentarti di qualcuno con cui ultimamente non c'è stato grande feeling Il passato deve essere lasciato alle spalle, anche se in alcuni casi questa condizione potrebbe rivelarsi più difficile da gestire di come avevi immaginato Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like